Ospite che è la dottoressa Paola Pallotta, dermatologa dell'Idi, istituto dermopatico dell'Immacolata. Bentornata al mio medico, benvenuta. Dottoressa, parliamo di un argomento che riguarda tantissime persone che molto spesso viene scambiato forse per imbarazzo, un po' di rossore sul volto. Ecco, parliamo di cupe rose, perché la cupe rose in realtà è un piccolo problema che va risolto e ora vediamo esattamente, non è una questione di imbarazzo, ne soffrono anche tantissimi personaggi dello spettacolo, persino il re Carlo III d'Inghilterra, Bill Clinton, tanti sono i personaggi famosi che ne soffrono, ma che cos'è la cupe rose? Intanto buongiorno a tutti, la cupe rose è un disturbo diciamo vascolare, cioè una vasodilatazione del plesso dei capillari, il plesso superficiale della pelle, diciamo così. Si può manifestare con un ramage, cioè con proprio la rottura dei capillari, possiamo vedere pazienti che hanno i rametti rossi proprio, soprattutto sul naso, sulla regione malare del viso e quella è la vera cupe rose, cioè ormai il capillare si è danneggiato. Quindi professoressa stavamo vedendo anche un cartello, ci sono proprio dei sintomi distintivi? Assolutamente, abbiamo oltre, proprio insieme alla cupe rose, abbiamo dei rossori diffusi dove ancora diciamo il danno del vaso non si è verificato, ma abbiamo una vasodilatazione persistente un pochino come appunto Re Carlo III che ha questo rossore, questa vasodilatazione, perché? Perché diciamo ci sono molti fattori, ci sono fattori ereditari, ci sono fattori legati all'alimentazione, ci sono fattori legati allo sbalzo climatico. Quindi ci sono delle cause anche in questo caso ben precise, anche uno shock termico può avvenire in qualsiasi momento della vita? Certo, assolutamente una delle cose più diciamo dannose e che possono più far peggiorare anche un minimo già presente è lo sbalzo termico tra un esterno, una vita all'aria aperta con una bassa temperatura, magari un freddo secco e diciamo poi subito dopo entrare in un ambiente fortemente riscaldato, quello sbalzo termico danneggia i vasi, proprio perché sono i vasi del plesso più superficiale della pelle, più esterno, quindi anche il vento o il sole, il molto sole. Assolutamente. Io adesso le leggerei una domanda di una nostra telespettatrice, la signora Teresa che scrive dalla provincia di Pavia che appunto ci ha scritto, la cuperose può essere curata definitivamente, quali sono i trattamenti più efficaci? Diciamo che i trattamenti una volta che si è danneggiato il vaso esistono dei laser, sia un laser neodimio YAG che diciamo si passa proprio in superficie cutanea e collabisce il capillare, quindi lo chiude, sia la luce DAI con la quale noi effettuiamo diciamo un ciclo di sedute che tende proprio a chiudere questi vasi e a eliminare il rossore, quindi proprio a spegnere. Ecco qui, in queste immagini vediamo la luce DAI, mentre questo è il neodimio, il laser neodimio YAG che collabisce proprio le pareti del vaso. Hanno due lunghezze d'onda diverse, più specifico per il capillare è questo che stiamo vedendo, mentre la luce pulsata in quel caso ha un filtro particolare per, diciamo così, focalizzare la potenza della macchina sull'ossi emoglobina, quindi proprio sul rossore. Che quindi ci può aiutare quantomeno a lenire, probabilmente passa definitivamente, ci chiedeva anche la nostra amica Teresa? Diciamo che va in regressione e migliora moltissimo, è chiaro che noi consigliamo sempre, prima di effettuare i trattamenti e subito dopo, di cambiare un pochino lo stile di vita. Infatti le volevo proprio chiedere, ma si può prevenire in qualche modo, avendo uno stile di vita diverso o anche prima che ci venga questo problema? Allora, prima fra tutti nominiamo il fumo, il fumo danneggia enormemente il nostro albero vascolare sia più profondo che superficiale. Il sole, lo sbalzo termico, tutto ciò che vasodilata, cioè i cibi piccanti, troppo caldi, l'alcol è un potente vasodilatatore, abbiamo parlato prima di caffè ma naturalmente il caffè con moderazione si può assolutamente assumere. In generale dobbiamo dire che tutto ciò che può far vasodilatare e può rallentare una digestione fisiologica può aumentare questo disturbo del volto. Allora, dottoressa, noi donne siamo un po' più fortunate perché se abbiamo questo problema di cuperose, soprattutto sul volto o sul décolleté, possiamo coprirlo con il make-up e io qui ho a tal proposito e le chiedo di specificare come funziona un correttore che ha vari colori. Il verde dovrebbe essere quello che si utilizza? Esattamente. Il verde, diciamo, se il volto di una ragazza, il volto di una signora ha questo inestetismo con un rossore importante, dobbiamo usare un correttore verde perché riesce a mitigare questo colore così rosso acceso. Subito dopo mettiamo una crema e un fondotinta fluido perché il make-up di questo tipo protegge, crea una barriera tra il viso e l'esterno quindi ci fa come dire... Quindi non è solo un fattore estetico ma anche proprio di protezione. Assolutamente sì. Il make-up riesce a creare una barriera fisica allo sbalzo termico per esempio. Noi consigliamo di utilizzare il make-up proprio nei mesi invernali laddove poi entrando in un ambiente riscaldato ci può essere questo sbalzo termico che peggiora il volto della signora. Allora grazie, grazie alla dottoressa Pallotta per questi consigli importantissimi per chi soffre appunto di Cuperose.